Ecco, riprendiamo la diretta da TV Radicale, siamo in collegamento, allora innanzitutto bisogna dire che quello che era previsto in questo momento in Palinsesto era Anostrid e compagnia della decentralizzazione del web, purtroppo Adriano Peruso, che è il compagno che si trova in Germania in questo momento, ha avuto dei problemi con il proprio computer quindi non è riuscito a collegarsi su Skype. Quindi questo appuntamento per il momento salta, ma lo programmeremo sicuramente nel corso della prossima diretta che sarà domenica 12 giugno e che durerà 6 ore, lo preannunciamo questo. Ma bando alle ciance, quindi passiamo subito a quello che era previsto per le 18.30, quindi siamo in perfetto orario, ed è l'appuntamento con Marco Marchese, il titolo è Lacrime d'Amianto, la fibra killer si nasconde ovunque per la lentezza delle istituzioni e i ritardi delle bonifiche, mentre gli effetti per la salute umana sono sempre più drammatici. A cura appunto di Marco Marchese. Una piccola introduzione faccio Marco dopodiché io sono qui assolutamente da profano, che vuole sapere tante cose su questa questione di cui so poco, ma da quel poco che so mi ha fatto capire che è una questione veramente molto importante di cui bisogna assolutamente parlare. Rispetto a tutte le problematiche dell'Amianto, già nell'ultimo comitato nazionale, al comitato nazionale di dicembre, l'ultimo di dicembre è stato presentato, sono stato distratto da un messaggio di Skype, è stata presentata una raccomandazione insieme al comitato nazionale di direttori italiani. Cosa è seguito a quella raccomandazione? La parola a te Marco, introducici l'argomento dopodiché io ti farò le domande e aspettiamo soprattutto le domande dalla chat per capire di più di Amianto e sapere cosa si nasconde dietro questa fibra killer. Benissimo, allora il taglio che noi vogliamo dare a questa trasmissione è che non si esaurirà soltanto in questi 30 minuti di oggi, perché da Amianto si deve parlare, si deve parlare diciamo diffusamente, l'argomento è abbastanza complesso, per cui 30 minuti sarebbe davvero riduttivo e ridurre questo argomento a questo. Abbiamo voluto dare un taglio a questa trasmissione divulgativo in modo che possano capirlo tutti ed ecco qui la presenza, il perché anche della presenza di Roberto che diciamo di Amianto sa quello che sanno la quasi generalità delle persone, vale a dire che fa male e basta e quindi poi tutto quanto il resto bisogna andarla a vedere. Quindi io Roberto ti prego di farmi diciamo delle domande alle quali io risponderò diffusamente, alla fine dei 30 minuti interromperemo e ci daremo poi dopo appuntamento alla prossima trasmissione. Rispondo prima di tutto alla tua domanda, ecco l'Amianto fra i radicali è un po' iniziativa che sto cercando di portare io dentro e da un po' di tempo. Nello scorso comitato, cioè in un comitato nazionale del passato anno radicale era stata promossa una raccomandazione che poi fu recepita da parte della dirigenza e anche attuata al congresso, cioè vale a dire se doveva parlare di più di Amianto, l'argomento è stato dibattuto anche a congresso e soprattutto nella commissione ambiente e anche nella mozione generale ci fu un richiamo per quanto riguarda questa fibra minerale di cui adesso vi spiegherò e vi parlerò un po' più diffusamente. Poi invece nell'ultimo comitato nazionale di radicali italiani fu addirittura approvata su mia proposta una mozione particolare sull'Amianto che mirava a coinvolgere poi i candidati a sindaco di questa tornata elettorale dove punti di riferimento e associazioni radicali operano in giro per l'Italia. Questa cosa qui ha funzionato un po' di meno ma ciò non ci scoraggerà dal ripresentare questi documenti su altre forme nel tentativo di coinvolgere sempre di più radicali in giro per l'Italia perché è molto importante fare informazione su questo argomento. Incominciamo a dire una cosa, incominciamo a chiarire che cos'è l'Amianto e qual è il quadro, il problema diciamo in Italia. Allora dal 1992, quindi sono quasi 20 anni, da 19 anni c'è un bando totale in Italia come in tutti i paesi europei sulla estrazione, sulla lavorazione, sulla commercializzazione sia dell'Amianto in quanto tale e sia dei prodotti che contengono amianto. L'Amianto in Italia c'è, l'Amianto è un minerale che fa parte della famiglia dei silicati, è un minerale abbastanza comune in natura, ad esempio in Italia è presente su tutto l'arco alpino, sull'appennino toscano, in Calabria e in Sicilia. In Piemonte per esempio c'è la più grande miniera d'Amianto d'Europa, la famosa miniera di Balangero che adesso sono 20 anni chiaramente che ha chiuso i battenti e che ha abbondantemente inquinato le zone circostanti. L'Amianto in Italia è conosciuto molto di più con il nome commerciale del prodotto più diffuso che è l'Eternit, praticamente l'Eternit è una società, una multinazionale con sede in Svizzera, aveva sedi ancora tuttora in varie parti del mondo e l'Eternit aveva diversi stabilimenti in Italia, il più grande e il più tristemente famoso è quello di Casale Monferrato, più grande e tristemente famoso per via delle morti Amianto correlate, perché l'Amianto è una fibra minerale cancerogena. Allora sulla cancerogeneicità dell'Amianto ormai c'è una corposa letteratura scientifica che risale addirittura agli anni 30, pensate un po' che l'Amianto facesse male, che fosse cancerogena poi si è scoperto dopo, ma che facesse male, creasse dei seri problemi alla salute dei lavoratori che non lavoravano, si sa addirittura dagli anni 30, figuratevi un po', nonostante tutto le multinazionali dell'Amianto hanno continuato a produrlo, a commercializzarlo, ci hanno un po' infestato di prodotti contenenti Amianto e io su questa brevissima introduzione mi fermerei qui, altrimenti poi dopo non riesco a fermarmi più, perché per dare il taglio proprio divulgativo a questa trasmissione è fondamentale che tu Roberto mi poni qualche domanda. Ecco, se ho compreso bene Marco il problema, diciamo, l'Amianto ha delle proprietà, quella di essere una fibra ignifuga, no? E quindi è stata per lungo tempo utilizzata nei luoghi più impensati, quali sono questi luoghi? Ad esempio le carrozze dei treni? Ti spiego subito, allora l'Amianto, questa fibra minerale, diciamo, si è scoperto che ha delle ottime proprietà e può essere utilizzata in tantissimi settori, faccio solo, allora gli impieghi dell'Amianto sono stati censiti, sono circa 3.200, pensa un po', gli impieghi più importanti si sono diffusi, diciamo, in edilizia, poi sono stati utilizzati anche in altri settori, come dicevi tu, nelle ferrovie, per esempio i famosi vagoni all'Amianto, perché? Perché questa fibra minerale mescolata con altre sostanze e con altri materiali ha delle proprietà ottime di fonoassorbenza, per cui attenua i rumori e in più è una fibra ignifuga, ignifuga e che quindi respinge il fuoco. Allora, quindi è un ottimo isolante, sia per il caldo che per il freddo. Allora, in edilizia è stata utilizzata, l'uso, diciamo, maggiore dell'Amianto è stato fatto proprio in edilizia e vari tipi di Amianto, perché non ce n'è uno solo, sono sei, per esempio, i tipi di Amianto più usati, tre quelli particolarmente più usati sono l'amosite, l'acrocidolite, per citarne due, poi tutti gli altri, ma adesso diciamo la terminologia tecnica, scientifica, questa diciamo ci interessa relativamente, ci interessano più concetti e quella che, non lo so, in edilizia i prodotti che sono stati maggiormente costruiti e diffusi poi sul territorio nazionale sono i prodotti in cemento, Amianto o fibro cemento. Ecco, attenzione, questa la possiamo utilizzare come parola chiave, quando parliamo di cemento Amianto, Ethernet, vabbè, si capisce, oppure fibro cemento, parliamo più o meno della stessa cosa, fibro cemento magari lo si confonde un po' con il concorrente della Ethernet che era la famosa Fibronit che poi produceva più o meno le stesse cose prodotte in cemento Amianto, però chiaramente se si chiamavano in un altro modo loro amavano chiamarlo fibro cemento, invece all'Ethernet o lo chiamavano Ethernet e attualmente con Ethernet si identificano per la maggior parte i propri prodotti in cemento Amianto oppure lo chiamavano giusto appunto cemento Amianto. Quali sono questi prodotti? Allora, le onduline ad esempio in cemento Amianto per le coperture, pannelli fonoassorbenti oppure isolanti per le pareti delle case, l'Amiante è stato utilizzato per dire un'altra nell'inoleum per cui nelle piastrelle quelle di plastica di qualche anno fa, anche di qualche decennio fa, con i quali si utilizzavano anche nelle case ma prevalentemente negli uffici pubblici oppure negli ospedali. Le pastiglie dei freni sia delle macchine sia dei treni, l'Amianto è stato utilizzato come isolante a spruzzo per cui, questo qui è il più pericoloso perché questa matrice cementizia veniva letteralmente spruzzata sulle pareti degli edifici per fare in modo che fossero isolati sia termicamente sia per quanto riguarda l'isolamento acustico. Poi degli usi anche bizzarri, non lo so, si è scoperto che gli orafi morivano di mesotelioma pleurico, ecco questa è un'altra parola chiave il mesotelioma, poi ci torniamo magari dopo, che è il cancro che è causato dall'esposizione alle fibre d'Amianto. Gli orafi morivano di mesotelioma pleurico e si è indagato per cercare di capire il perché. Si è capito questo perché. Allora, gli orafi nel loro lavoro, nell'aspettare il loro lavoro, utilizzano un cannello a gas con una fiamma nel quale soffiano dentro e quindi lo utilizzano questo qui per fabbricare proprio i gioielli oppure per fare le riparazioni sui gioielli e si è scoperto che lavoravano su una tavoletta più o meno di 30 cm per 30 cm in cementamento e quindi da lì arrivava alle esposizioni. Quindi il lavorare su questa tavoletta, l'utilizzare gli strumenti, dava un rilascio, benché piccolissimo voglio dire, di fibre, però è stato sufficiente per creare un allarme in questa categoria perché si notò che gli orafi morivano siccome di mesotelioma pleurico molto più frequentemente della popolazione in genere. Allora, devo dire sul mesotelioma pleurico che in sé è un tumore rarissimo, quindi dove ci sono dei picchi di mesotelioma pleurico, siccome il mesotelioma che può essere pleurico del pericardio oppure del peritoneo, il più frequente è proprio quella della pleura, dove si registrano dei picchi e allora lì c'è una contaminazione all'amianto perché il mesotelioma è generato esclusivamente, almeno per le conoscenze scientifiche di oggi, solo dall'esposizione all'amianto. Insomma, quello che ho capito Marco, quello che mi è pazzo di capire è questo, è una fibra, quella dell'amianto, che si può ritrovare ovunque di fatto, anche nascosta, nei posti più impensati. Ora, qual è una sostanza, la cosa che mi ha lasciato veramente, che mi ha colpito è che basta che una parte veramente infinitesimale di questa fibra vada in un alveolo polmonare per causare appunto malattie come quelle cui tu hai accennato, riconfermi questa cosa, giusto? Allora, guarda, te lo confermo però bisogna fare delle precisazioni. Allora, prima di tutto cosa bisogna dire? Bisogna dire non bisogna fare, diciamo, allarmismo ingiustificato. Poi il corpo umano ha delle proprietà nel momento in cui viene a respirare queste fibre, ha delle capacità anche di escursione di queste stesse. Il problema sono le esposizioni, quando diciamo si è esposti ad una fonte di queste fibre, e qui apro una parentesi. Allora, devi tenere presente un centimetro lineare, no? Tu puoi prendere un righello, guarda quant'è un centimetro, in un centimetro lineare noi possiamo mettere uno a fianco all'altro circa 200 capelli, 200 capelli umani. In questo stesso centimetro lineare, utilizzando una fibra più sottile, possiamo mettere uno a fianco all'altro circa 1200 fibre di nylon, perché sono molto più sottili. Ecco, se utilizzassimo, se potessimo mettere in fila uno dopo l'altro, in un centimetro lineare delle fibre d'amianto, ce ne vorrebbero, per coprire un solo centimetro lineare, 335.000. Per capirci, la fibra d'amianto è 1300 volte più sottile di un capello, in più ha una caratteristica morfologica, la caratteristica, qui parliamo di micron, quindi di milionesimi di metro, questa caratteristica è che ha la forma allungata, per cui un po' allungata è chiaramente sottile. Quando è che è irrespirabile? Che cosa significa respirabile? La fibra d'amianto è respirabile quando è lunga circa 3 micron e larga circa 1, per cui è assolutamente minuscola, piccolissima. La si respira, non ci si accorge di respirarla, grazie a questa sua caratteristica può fermarsi nel polmone, il quale poi dopo il corpo utilizza alcuni mezzi, adesso non mi voglio addentrare nella terminologia scientifica di questi meccanismi, comunque adotta il corpo stesso nel polmone delle contromisure, la maggior parte delle volte ci riesce, alcune altre invece no. La fibra nel momento in cui si deposita nella pleura può restare lì e può restare lì, resta lì decenni. Adesso qui ci sono varie sia correnti di pensiero e sia tesi scientifiche. La tesi scientifica certa è che l'amianto genera il mesotelioma pleurico, poi però c'è un dibattito per quanto riguarda la dose, perché c'è una corrente di pensiero che dice che sia sufficiente anche una sola fibra a scatenare il mesotelioma pleurico dopo un determinato tempo di latenza, ecco qui sul tempo di latenza possiamo dire che sono stati registrati tempi di latenza addirittura fino a 60 anni, pensa un po', cioè mediamente il mesotelioma pleurico si manifesta dalla prima esposizione dopo circa 35-40 anni. Quell'altro che si è notato è chiaramente che più è alta la dose e più questo termine di latenza diminuisce, perché evidentemente si potenzia l'effetto di cancerogenicità e addirittura si decuplica se la persona è esposta, questo però avveniva più in ambito professionale quando questa persona era fumatore. Io adesso non lo so, sto parlando però vedo che dalla chat c'è qualcosa. No, infatti io ti volevo interrompere perché arrivano veramente tante domande dalla chat, evidentemente è un tema che appassiona molto, quindi io le ho appuntate tutte e partiamo dalla prima e magari ti consiglio di dare delle risposte più brevi in modo da poter rispondere a tutte. Raffaele Schettino chiede come si smaltisce l'amianto? L'amianto si smaltisce rivolgendosi ad una ditta specializzata e autorizzata soprattutto e non è consigliabile fare degli smalti, per esempio se uno ha la tettoglia del proprio parcheggio in onduline di Ethernet non è assolutamente consigliabile che lo smaltimento venga fatto abusivo, non perché si rischia il carcere e delle pesanti sanzioni perché questo materiale è considerato materiale pericoloso per cui può essere trattato solo da personale specializzato, ma perché si rischia la vita. Seconda domanda, ben ragazzi, che tipo di soluzioni abbiamo per evitare i rischi di contagio? Allora per evitare i rischi di inalazione delle fibre, contagio vabbè, non è il termine esatto, però ci siamo capiti, per evitare l'esposizione dobbiamo tenerci lontano il più possibile da questi materiali e non frequentare zone dove è noto che ci sia una contaminazione ambientale dell'amianto. Quali sono queste zone? Le zone dove si sa che in natura esiste, le zone dove ci sono stati stabilimenti dell'Ethernet oppure della Fibronit che quindi hanno lavorato questo materiale e poi chiaramente si possono adottare tutta una serie di contromisure, però qui allargherei molto un po' la discussione, per cui rimando anche sulla prevenzione alla prossima trasmissione dove possiamo parlare per esempio cosa si può fare se uno ha la tettoia però non ha i soldi, i 4-5 mila euro che servono per smaltirle, se uno c'è il garage con la tettoia in Ethernet cosa può fare temporaneamente prima dello smaltimento, quali sono effettivamente i rischi e quali sono poi le contromisure che si possono prendere per evitare proprio l'esposizione all'amianto. L'unica cosa che bisogna evitare è respirare le fibre, ecco questo è. Comunque Marco l'avevamo visto giusto perché stanno veramente piovendo domande, quindi andiamo avanti velocemente, visto giusto nel senso che avevamo deciso di programmare come rubrica fissa una rubrica di 30 minuti a trasmissione sull'amianto e quindi evidentemente è un tema che interessa molto. Andiamo avanti con le altre domande, Radicheli Caserta, le zone d'Italia dove il rischio amianto è più alto? Allora, le zone dove c'è in natura l'amianto è un po' la famosa Val di Susa, un po' tutto l'Arcalpino, la Toscana, la Calabria e la Sicilia, però in natura non crea grossissimi problemi l'amianto. Il problema maggiore è la diffusione delle ondoline di Eternit, questo poi in verità è il vero problema che è rimasto in Italia, secondo dati di Lega Ambiente non contestati da nessuno, ormai consolidate e accettate un po' sia dalla comunità scientifica che dà le istituzioni. Oggi in Italia vi sono da smaltire due miliardi, lo dico lentamente, due miliardi e mezzo di metri quadri di Eternit, di ondoline di Eternit. Se potessimo raccoglierli tutti in un solo posto e metterle una a fianco all'altra, queste lastre ondulate di Eternit, noi copriremmo un'estensione di 50 chilometri per 50 chilometri. Il guaio è che se fosse tutto concentrato in un posto potremmo prendere delle buone contromisure. Invece purtroppo l'Eternit è diffuso in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio nazionale e secondo i dati del RENAM, ecco questa è un'altra parola chiave, il RENAM è Registro Nazionale Mesoteliomi, poi spiegheremo meglio che cos'è e come funziona, secondo il Registro Nazionale Mesoteliomi. Andando avanti con il ritmo attuale nelle bonifiche dei prodotti che contengono amianto in Italia, l'ultima lastra di Eternit noi la andremo a bonificare fra 150 anni. Purtroppo qui si apre il problema dei problemi, è il vero problema dello sbaltimento dell'amianto, le lastre di Eternit non ce l'hanno, noi fra 150 anni non ci saremo quasi sicuramente. Parla per te Marco! Questo è vero! Allora Roberto ci sarà e testimonierà fra 150 anni come finirà questa storia, io quasi sicuramente non ci sarò e allora, però c'è un dato certissimo, le lastre di Eternit non ce l'hanno 150 anni, perché essendo che è una matrice cementizia, per cui è l'amianto che si lega al cemento e viceversa, più passa il tempo più questa si sbriciola. E il problema che bisogna evitare è proprio questo, andando con il ritmo attuale, fra 30-40 anni l'Eternit sicuramente non ce ne sarà più in Italia perché sarà sbriciolato e quindi tutte le fibre contenute in questo materiale, e vi ho detto 2 miliardi e mezzo di metri quadri, 50 chilometri per 50 chilometri se potessimo mettere tutti in un posto, parliamo di trilioni e trilioni di fibre di amianto che vanno in atmosfera e che si sposteranno, diciamo che il fondo naturale delle fibre di contaminazione di fibre d'amianto sarebbe aumentato in modo esponenziale e quindi scatterebbe quella roulette russa nella popolazione di chi ogni tanto si andrà a beccare il mesotelioma pleurico. Il mesotelioma, ahimè, è un tumore, purtroppo è uno dei tumori che non ha una cura attualmente e ha una mortalità a 6 mesi altissime che sfiora il 90%. Allora, Libertaria chiede, andiamo più veloci Marco perché il tempo sta per scadere, qual è la responsabilità dello Stato italiano in merito alla presenza dell'amianto nelle infrastrutture pubbliche? Nessuna, ci sono delle leggi e la materia è molto controversa perché attualmente aver riconosciuto come semplice cittadino l'esposizione all'amianto è quasi impossibile, figurati che fanno fatica anche gli stessi lavoratori ad avere gli indennizi. Anche questa è una materia abbastanza complessa che nelle prossime trasmissioni approfondiremo un po' più nel dettaglio. Bene ragazzi, chiede, come evitarne i rischi? Come evitare i rischi di contaminazione? L'ho detto già prima, tenendosi alla larga dell'amianto per cui se avete la tettoia del vicino di casa che è in onduline di Ethernet, il serbatoio dell'acqua proprio, si deve cercare tutti i modi possibili per contenere il rischio di contaminazione subito magari utilizzando le vernici impregnanti. Anche questo è un discorso complesso e che rimando nelle prossime trasmissioni. Obiettivo finale è arrivare alla bonifica di chi ha sotto il naso prodotti che contengono l'amianto, il cemento-amianto. Americano chiede, l'amianto fa male, le leggi che ne evitano l'uso e che impongono il risanamento ci sono. E la magistratura che dovrebbe far rispettare quelle leggi dov'è? Non abbiamo troppi de magistris? Allora, le leggi ancora non sono proprio completissime. Abbiamo una legislazione che può funzionare, però sono gli enti locali che non hanno attivato tutte queste leggi. Vi faccio un solo esempio, la Regione Calabria ha approvato una legge sull'amianto nell'aprile scorso, per cui un mese e mezzo fa, quindi con 19 anni di ritardo rispetto alla legge del 1992 e nella legge c'è scritto che vogliono ancora tempo per preparare il piano sullo smaltimento dell'amianto. Quindi il problema è reale e questo qui, la magistratura, diciamo procura per procura, si possono trovare dei procuratori particolarmente sensibili e solerti all'argomento e che magari le discariche abusive le vanno a sequestrare immediatamente, che ordinano le bonifiche, un po' a macchia di leopardo questa cosa qua. Se non c'è una grossa sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica su questo argomento, il problema dell'amianto ce lo trascineremo ancora per molti anni in Italia. Allora, dunque, Libertarian chiede, da quando a livello internazionale l'amianto è stato vietato? Lo Stato italiano storicamente ha prontamente adottato tale risoluzione internazionale di bando? No, l'Italia ha adottato una legislazione di bando sull'amianto con una diecina di anni di ritardo dopo le certezze scientifiche sui problemi che questo materiale comporta. In Europa è vietato in tutti i paesi, però abbiamo un grossissimo problema. Abbiamo il problema ad esempio del Canada che ancora estrae ed esporta l'amianto. Abbiamo il problema del Brasile che estrae, lavora e commercializza l'amianto così come fa l'India, così come fa la Russia, così come fa la Cina. Qui ci sono veramente seri problemi. Allora, l'amianto in Italia negli ultimi anni sono stati censiti in modo assolutamente certo circa quasi 10.000 morti. Sono chiaramente molti di più. Questi 10.000 morti sono riferiti soltanto al mesotelioma pleurico. Poi ci sono tutta un'altra serie di malattie correlate. Dal 2010, nei prossimi 20 anni, per cui nel periodo 2010-2030, c'è un'attesa di morti per amianto nella sola Europa che equivalgono a ben più di un genocidio, perché parliamo di 500.000 morti. Ditemi voi se è poco, e per fortuna da una ventina d'anni e in alcuni paesi anche di più in Europa, c'è il bando totale. E quindi, nonostante il bando totale, dal 2010 al 2030 c'è un'attesa di 500.000 morti, fate voi il conto. Se poi ci mettiamo il Brasile, la Cina, l'India, la Russia, che ancora oggi non riconoscono la pericolosità di questo prodotto e lì siamo ancora ai livelli che si combatte con i problemi dell'asbestosi. Poi l'asbestosi è la malattia più comune che causa l'amianto, che è una gravissima infiammazione polmonare che affligge i lavoratori che sono a diretto contatto con l'amianto, quelli che lo lavorano. Continuiamo con le ultime domande. Ci sono studi antitesi riguardo alla pericolosità del minerale. Diciamo, non è controversa la questione dell'amianto o è controversa la questione? Allora, ciò che non è controverso è che l'amianto sia cancerogeno. Cioè ormai la comunità scientifica ha acclarato che l'amianto è cancerogeno. C'è un materiale che porta al tumore. Gli studi che sono controversi riguardano dei singoli aspetti. Ad esempio, ancora c'è un dibattito sul discorso della dose di amianto, quindi la dose dell'esposizione che causa il carcinoma polmonare. Quindi ci sono correnti di pensiero che dicono che anche basse dosi di esposizione all'amianto non solo può causare il mesotelioma pleurico, questo è assolutamente assodato, ma c'è questa corrente di pensiero che pensa che anche queste basse dosi causano il carcinoma del polmone che è decuplicato nella sua pericolosità se abbinato al fumo. Viceversa ci sono correnti di pensiero che contestano questa cosa qui e poi c'è un altro, altri studi controversi sulla cosiddetta trigger dose, cioè vale a dire la dose killer, è un po' una teoria, ecco sì, questa sì controversa che vuole che anche una singola esposizione, una singola fibra possano causare il mesotelioma pleurico. Su questo qui la comunità scientifica contesta questa trigger dose ma resta sempre ferma sul dato scientifico che anche i dosi basse e contenute nel tempo possano poi dopo causare il mesotelioma pleurico con un termine di latenza molto lungo che come dicevo può arrivare fino a 60 anni. Ok, la domanda era di Raffaele Schettino. Libertarian chiede, sono state rese note delle statistiche circa il numero delle esposizioni in Italia e nel mondo? Ci sono materiali sostitutivi con costi accettabili? Chiede già Nicolacione. E infine Libertarian chiede, qual è l'impatto economico a livello di costi sanitari e di assicurazioni? Allora, già soltanto il fatto che nei prossimi vent'anni ci si attende in Europa 500 mila morti per amianto è chiaramente un costo sociale spaventoso in termini di costi sanitari. Questo qui lo si evidenzia, voglio dire, senza scendere nel dettaglio delle statistiche ed è uno. Materiali sostitutivi? Sì, in Europa i materiali sostitutivi? Assolutamente sì, ci sono e sono stati già predisposti ma già da tantissimi anni. Materiali altrettanto validi in sostituzione delle onduline di Ethernet. Anzi, l'ondulina di Ethernet al giorno d'oggi sarebbe un materiale desueto. 40 anni fa, 50 anni fa era un materiale all'avanguardia, buono per le proprietà, poco costoso, leggero, malleabile, si poteva tagliare molto facilmente, per cui una copertura si faceva, una copertura di una casa con estrema facilità, non lo so, per le tubature in pressione. Adesso non vi sto a tediare con tutti quanti gli usi, no? Cioè, tutti i materiali che contengono amianto hanno trovato delle ottime e validissime sostituzioni. Non mi ricordo la prima domanda, Roberto, perché sono andato a ritroso. La prima domanda, qual è l'impatto economico a livello di costi sanitari e di assicurazione? Questo abbiamo risposto, i materiali sostitutivi, ma ce n'era anche un'altra. Sono state resiando le serie, questo l'abbiamo già detto, materiali sostitutivi, l'inconversione delle strutture e spese sanitarie con dentro l'amianto, l'Italia va bonificata come quali le regioni più a rischio. Allora, in Italia le regioni più a rischio, non c'è una regione più a rischio dell'altra, ci sono regioni come l'Emilia-Romagna, che è molto avanti nelle bonifiche, la Lombardia è abbastanza avanti, ma ancora c'è da lavorare, in tutte le altre regioni c'è molto lavoro da fare. Al volo, Marco, ti leggo altre due domande, perché poi siamo già fuori tempo, c'è l'altra trasmissione. Radicali Caserta chiede, forse la domanda è scontata, ma c'è un interesse da parte dei cementifici nell'uso dell'amianto? Da parte dei cementifici no, è sotto processo l'Eternit svizzera, quali multinazionale e quali capofila di un accertatissimo cartello internazionale, la famosa lobby dell'amianto. Collante 007 chiede, esistono strumenti di rilevazione per capire se l'oggetto è fatto di amianto? Bisogna fare un'analisi visiva, dà delle alte probabilità di riconoscere un materiale che contiene amianto, perché quelli più diffusi sono rimasti pochi e si riconoscono abbastanza facilmente, per essere sicuro al 100% bisogna portare un campione all'ARPA, anzi farlo prelevare da loro che è meglio perché altrimenti l'operazione sarebbe pericolosa, e farlo analizzare. Perfetto Marco, credo che come introduzione di quella che sarà una serie di trasmissioni sulla fibra killer, l'amianto come fibra killer, siamo andati abbastanza bene perché... Aspetta, ti interrompo perché Marte qui in chat dici il fatto è che di smettere un capannone con copertura Eternit costa una cifra, il problema caro Marte non è questo, credo che costi di più in termini sanitari e in termini di vita umane. Ma c'è anche un altro costo, se diciamo ci limitiamo al costo della copertura e non ci dobbiamo limitare soltanto ai capannoni industriali perché sono veramente centinaia di migliaia le case degli italiani con le coperture in Eternit, il problema non sono per una copertura di 200 metri quadri i 5-6 mila euro che ci vogliono per smaltire, è che dopo ti resta il tetto scoperto e te ne servono 20-25 per rimetterlo a posto, quello è il vero problema economico, se ci concentriamo soltanto proprio sulla dismissione, sulla bonifica e il ripristino dei tetti. Benissimo Marco, salutiamo Marco Marchese e mandiamo un piccolo spot, poi la prossima trasmissione Albania, una difficile transizione con Salvatore Antonaci e Fationa Lanza.